Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial che in realtà è la seconda parte di un video tutorial precedente relativo all'utilizzo di Ghetto VCB all'interno di un'infrastruttura con il V-Sphere, con l'SXI Allora, un brevissimo flash per ricordarci quello che abbiamo fatto precedentemente nel precedente tutorial che chiaramente potete andare a visionare delle piccole modifiche le possiamo riscontrare all'interno della cartella SXI dove avevamo creato il nostro batch che è stato modificato per far sì che il nostro batch stesso possa copiare, possa effettuare il backup non solo della macchina Asterisk11 che avevamo visto precedentemente ma anche del Firewall PFSense e della macchina di controllo Windows XP e alla fine chiaramente mandare un'email dove in allegato è presente il log contenente i risultati del backup si vede qui in modo molto preciso che mentre nella prima riga di codice c'è un normale reindirizzatore nel backupvm.log nella terza o meglio riga di codice c'è un doppio reindirizzatore quindi questo significa che in pratica tutto quello che viene prodotto a video da questa riga non deve essere altro che posizionato in coda al file backupvm.log a differenza del primo che indica la creazione del file backupvm.log ora il comando viene svolto senza alcun problema o meglio il batch viene svolto senza alcun problema e come possiamo verificare all'interno del datastore contenente chiaramente i nostri backup possiamo vedere che c'è una macchina Asterisk 11 con 3 backupvm.log dove l'ultimo chiaramente risale al 21 una macchina PFSense con 2 backupvm.log e una macchina Windows XP con 2 backupvm.log chiaramente Asterisk 11 ha 3 backup invece di 2 perché stavamo giochicchiando con i backup prima che avessi fatto la modifica all'interno del batch per verificare che chiaramente quanto stia dicendo io corrisponde al vero possiamo andare ad aprire una finestra o meglio un browser e accedere direttamente a Zimbra per verificare che l'email sia effettivamente arrivata andiamo all'interno del nostro Zimbra eccoci qui quindi abbiamo che il cliente sul quale ho apportato la modifica o meglio la creazione di questa procedura automatizzata di backup attraverso l'uso di gettovcb mi manda giornalmente un log attraverso chiaramente la visione di questo log io posso diciamo analizzare quanto effettivamente è fatto e chiaramente agire qualora dovesse andare qualcosa di storto è chiaro che potremmo migliorare e ottimizzare ulteriormente il processo di analisi quindi con Zabbix come si può vedere in un altro log che mi è arrivato però questa è un'altra storia e forse in futuro metteremo su anche dei video tutorial ma procediamo oltre eccoci finalmente pronti a verificare che quanto abbiamo detto nella prima parte corrisponda a verità cioè se effettivamente riusciamo attraverso il gettovcb a recuperare, a fare il recovery di una VM quindi il primo step da fare è quello di posizionarci all'interno delle ZXI sì, le operazioni di recovery devono essere fatte a riga di comando quindi non è difficilissimo se prestate un'attenzione maggiore rispetto ai video tutorial precedenti ce la faremo senza alcun problema perché chiaramente nulla è impossibile quindi loghiamoci tranquillamente la password è andata un po' male ok, loghiamoci tranquillamente ci posizioniamo direttamente all'interno della cartella gettovcb vista in precedenza quindi se andiamo in datastore1 e in gettovcb andiamo a vedere cosa effettivamente si trova all'interno all'interno abbiamo una gettovcb-restore-vm-restore-configuration-template che è quello che useremo io mi risolvo il problema del restore in questo modo creo tanti file restore quante sono le macchine di cui abbiamo fatto il backup proprio per semplificare l'attività di recupero successiva perché è risaputo che durante un'attività di recupero si ha il fiato sul collo del titolare e quindi bisogna velocizzare le operazioni di recupero stesse quindi andiamo ad aprire a schermo intero la nostra CLI andiamo a fare una cp gettovcb-restore-vm-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m- chiamarla asterisk11, quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno, avremo una gettovcb restore asterisk11, quindi andiamo direttamente a modificare il file di configurazione per il recupero della macchina asterisk11, una ins, e quello che dobbiamo fare è costruire una riga identica all'esempio mostratoci, o meglio simile all'esempio mostratoci, che ben venga cucita in base ai dispositivi che abbiamo. Quindi andiamo ad aprire i nostri apicetti e andiamo a posizionare il percorso, andiamo a scrivere il percorso preciso che abbiamo e che dove si trova chiaramente il nostro backup, quindi abbiamo vmfs, volumes, abbiamo, ora lasciamo un po' per vedere effettivamente dove si trova, andiamo a vedere vmfs, volume, se non sbaglio è backup, perfetto, backup, andiamo a vedere cosa c'è backup, ho sbagliato la dir e fa riferimento ai comandi windows, e quindi andiamo a verificare cosa abbiamo all'interno di questo path, e abbiamo asterisk11, perfetto, quindi se andiamo a vedere all'interno di asterisk11, abbiamo un sacco, un sacchissimo di dati. Ora, per maggiore precisione andiamo a vedere in backup, in backup, in vcbackup asterisk11, ecco, abbiamo sbagliato il percorso, ecco perché ci può essere utile anche la parte grafica dell'SXI, quindi, ritornando qui, geto vcb, abbiamo backup, andiamo in pratica nella sottocartella vcbackup, quindi vcbackup, e abbiamo asterisk11, ok, abbiamo i nostri chiaramente tre backup effettuati, dobbiamo scegliere quale dei backup andare a utilizzare. Prima di scegliere il backup da utilizzare, ebbene, in pratica, andare a identificare, a salvare il path, il percorso iniziale del backup. Quindi, ritorniamo nel nostro file di configurazione che stiamo creando, e andiamo direttamente con una ins, a cancellare quello che avevamo scritto, per mettere il file di backup, o meglio, il percorso all'interno del quale ci sono i backup di interesse. Però noi adesso dobbiamo scrivere, in effetti, in che cartella precisa dobbiamo andare a considerare per la verifica, per, diciamo, il recovery da attuare. Quindi, ritornando qui, andiamo a verificare per data, abbiamo 21 agosto, 22 agosto e 23 agosto. Prendiamo quella relativa al 23 agosto, in modo molto molto semplice, con una ctrl c, andiamo direttamente all'interno del file di configurazione, andiamo a scrivere la cartella, con una data precisa da voler utilizzare per il recovery, andiamo a mettere un punto e virgola, andiamo a selezionare il data store da utilizzare, che nel nostro caso è il data store 1, andiamo a verificare se in effetti è il data store 1, e ci siamo, perfetto, e successivamente andiamo a definire 1 per il formato del disco, considerando che usiamo sempre lo 0fic, e andiamo a scrivere asterisk 11, andiamo a scrivere il nome della macchina che vogliamo dare al recupero. Facendo così abbiamo creato il nostro file di configurazione, quindi in questo modo il nostro file di configurazione esiste, e possiamo riutilizzarlo successivamente andando solo a modificare chiaramente la data, andando solo a modificare la data, o meglio andando solo a modificare la cartella, facendo un copia e incolla della cartella che ci interessa per il recovery. Passiamo subito all'azione, così non perdiamo tempo, e quindi verifichiamo effettivamente che tutto sia andato normalmente, andiamo a scrivere gettovcb, mettiamo una ls, ok, andiamo a fare gettovcb restore sh, meno c, e andiamo a scrivere, in pratica, il file di configurazione che vogliamo adottare per il recupero. Andando ad inviare, non l'abbiamo trovato. Dopo aver fatto una bella clear completa, andiamo a scrivere ed ad utilizzare il percorso globale invece di quello locale, quindi andiamo a scrivere vmfs volume, abbiamo detto datastore 1, gettovcb, perfetto, abbiamo gettovcb trattino restore punto sh, meno c, dove diciamo di andare ad analizzare il file di configurazione creato per il recupero di asterisk 11, quindi volume, abbiamo datastore 1, abbiamo gettovcb, ok, e abbiamo gettovcb trattino restore underscore asterisk 11, e sta iniziando ad effettuare il recupero. Andiamo a verificare sul 10200 se succede qualcosa, e un pochino presto. Eccolo qua, il recupero ha avuto esito positivo, asterisk 11, recover, abbiamo visto che l'ha fatto in un tempo proprio microscopico, abbiamo 1 minuto e 80, andiamo però per esattezza a mandarlo in esecuzione. Andiamo a dare il play, adesso ci dovrebbe, perfetto, lasciamo su icopied, perché in realtà facendo in questo modo lo possiamo andare in esecuzione, nonostante ci sia chiaramente la macchina di partenza, quindi non avremo problemi in relazione all'utilizzo di due identici Mac. Eccolo qui, la macchina sta tranquillamente partendo, e siamo contenti che il nostro recupero abbia dato esito positivo. Eccolo qui, il gioco è fatto, abbiamo avuto esito positivo, quindi riordinando un po' le idee, possiamo spegnere chiaramente questa macchina, perché non è stato altro che un test. Ok, possiamo spegnere questa macchina perché è stato solo e soltanto un test. Perfetto. Possiamo chiaramente cancellarla perché è inutile tenerla all'interno del nostro detastore 1 e chiaramente nel nostro database. Perfetto. E andiamo, ritorniamo nel nostro ghetto vcb per praticamente andare a modificare qualche altro piccolo file, andare a creare o meglio qualche altro piccolo file in modo da tenere tutto sotto controllo, perché è bene che all'atto, come ho detto precedentemente, all'atto del recovery abbiamo già tutti i file belli e pronti e quindi non ci stiamo a cervellare nella creazione. Se facciamo una cp ghetto, anzi facciamo in modo molto molto più veloce con un copy and call, cp ghetto asterisk 11 cp ghetto asterisk 11 e la chiamiamo come ghetto vcb restore e gli andiamo a prendere il nome del pf sense e quindi restore underscore pf sense e restore underscore restore underscore win xp win xp facciamo una clear, clear, ls e li abbiamo già belli e pronti andiamo a modificare chiaramente il nostro ghetto vcb restore pf sense andiamo con una ins andiamo direttamente a modificare il percorso e andiamo a mettere pf sense andiamo a riaprirla per verificare che tutto sia andato bene per ulteriore eccesso di zelo andiamo a verificare che il percorso sia corretto ok e come ultima possiamo andare a modificare il file che abbiamo l'ultimo file, quello relativo alla macchina di controllo windows xp andiamo con una ins ok abbiamo win xp andiamo a mettere data win xp recover giusto per preparare già che stiamo preparo tutto per eventuali fault anche con la macchina relativa ad asterisk andiamo con una ins e abbiamo preparato i nostri tre file nei nostri tre configurazioni pronti ad essere utilizzate durante eventuali criticità e quindi tutto quello che dovevamo vedere per quanto riguarda il recupero è stato svolto adesso non ci resta che passare all'argomento successivo quello che prevede il miglioramento di questo concetto per andare a sviluppare un progetto di copia di una macchina virtuale da un sxi sorgente a uno di destinazione durante la notte eccoci finalmente arrivati all'ultima parte di questo video quella a cui tengo maggiormente e per la quale forse prenderò delle critiche perché quello che stiamo facendo è un progetto low budget che non può assolutamente combattere contro i grossi colossi quale Vim o il Vcenter per la creazione delle repliche con due SXI e siamo stati obbligati a trovare e a creare una soluzione perché il cliente aveva speso tutti i suoi soldi nell'acquisto del server principale del server nuovo e voleva riutilizzare il server vecchio che usava fino a un mese fa per avere delle repliche da utilizzare chiaramente qualora il server principale andasse in fault quindi ritornando al concetto che abbiamo visto precedentemente quello relativo all'utilizzo di ghetto vcb se estendessimo il concetto andando ad analizzare due server il server SXI destinazione e il server SXI sorgente all'interno del server SXI sorgente c'è il datastore 1 che c'è anche il datastore 1 sul server SXI destinazione e chiaramente nel sorgente abbiamo anche le VM VM1, VM2, VMn in generale questa piccola cartella NFS ci porta all'immagine successiva se noi andassimo utilizzando la tecnica del man in the middle andassimo a prendere un NAS all'interno della quale andassimo a scegliere una folder di condivisione NFS e l'andassimo a montare in entrambi gli SXI avremmo un dispositivo centrale che potremmo usare come ponte in che senso? sempre utilizzando Windows XP con un batch che comanda la gestione del ghetto vcb sh attraverso l'uso del plink così come abbiamo visto precedentemente possiamo creare chiaramente col ghetto vcb ghetto vcb con lo script possiamo creare un backup della macchina della VM posizionarla chiaramente sull'NFS che in realtà si trova sul cunap e non si trova sul server stesso successivamente sempre con Windows XP usare la ghetto vcb restore per riposizionarla sul server destinazione più che posizionarla, importarla sul server destinazione andando ulteriormente ad evolvere il concetto qualora non doveste avere un NAS NFS che però diciamo è molto semplice da reperire per chi costi molto molto bassi potreste creare una VM con un NFS share all'interno delle SXI nel server sorgente per poter chiaramente creare questa procedura in pratica prima la VM 1 verrebbe depositata all'interno dello share montato anche come server nel server destinazione e poi chiaramente importato all'interno del server destinazione ora non ci resta che vedere step by step tutto quanto fatto anche se sinceramente è semplice perché facciamo riferimento a tutti i concetti visti precedentemente eccoci posizionati sulla macchina di produzione del cliente o meglio sulla macchina di controllo che gestisce le operazioni di creazione del backup dall'SXI sorgente all'importazione dello stesso backup sull'SXI di destinazione abbiamo in pratica, riordiniamo le idee che l'SXI sorgente è il 100156 dove come potete vedere ci sono un sacco di macchine in produzione e che è una normalissima macchina peraltro ottima un Dell, un Powerage R520 con un solo processore andiamo a vedere la configurazione all'interno della quale vediamo chiaramente il backup che non è altro che uno share NFS e il datastore 1 andiamo a vedere la macchina 100200 che corrisponde in realtà all'SXI di destinazione e avremo che anche qui c'è un datastore backup che è collegato chiaramente a uno share NFS e abbiamo un datastore 1 che in pratica sono dei dischi presenti all'interno del server stesso che cosa dobbiamo vedere prima? dobbiamo prima vedere il ghetto WCB del sorgente quindi andiamo sul 100156 e andiamo a vedere il ghetto WCB del sorgente dove dobbiamo fare una piccola modifica dobbiamo far sì che le macchine che vengano create non vengano create con il nome della data del giorno di creazione ma vengano create con una numerazione partendo dallo 0 in poi però se scegliamo che la rotation deve essere uguale a 1 come in questo caso avremo che la macchina che verrà creata verrà creata sempre con lo stesso nome e la macchina creata andrà a sovrascrivere la macchina creata il giorno prima avendo un ciclo, un loop continuo di creazione e di sovrascrittura quindi rivediamo un po' VM Backup Volume è il nostro NFS Share la rotation è uguale a 1 e andando giù verso la riga 128 andremo a trovare quello che in realtà ci serve andiamo a vedere quello che ci serve è perfetto il VM Backup Dirt Naming Convention dove se lo poniamo uguale a 0 abbiamo il risultato che vogliamo quindi andando a vedere il risultato che vogliamo in realtà andando sulla sorgente andando nel backup andando in Browse Datastore avremmo che in VM server j ed ibs sarà server j ed ibs trattino 0 come anche windows xp server sarà xp server trattino 0 windows xp grafica windows xp underscore grafica trattino 0 quindi avranno sempre gli stessi nomi è chiaro che se andassimo nella destinazione vabbè è inutile diciamo però lo facciamo giusto per avere la coscienza a posto avremo server srv j ed ibs trattino 0 quindi tutte e due fanno riferimento a uno stesso nfs andiamo subito a dare un'occhiata al batch creato che non fa altro che replicare i contenuti di un sxi sorgente nel destinazione vediamo che ci sono la stessa riga di quello che abbiamo visto precedentemente con la cancellazione del del log che crea il plink si collega alla macchina sorgente e non fa altro che mandare in esecuzione il getto vcb sh e la macchina relativo alla macchina srv j ed ibs mandando chiaramente tutto il risultato tutto l'output sul backupvm.log successivamente c'è un altro plink che si collega alla macchina destinazione che non fa altro che cancellare la un'ipotetica un'ipotetica importazione della srv j ed ibs che io ho chiamato clone e poi alla fine abbiamo il plink che fa normalmente l'accesso al 200 per poter fare l'importazione vera e propria l'importazione vera e propria in pratica effettuata dalla getto vcb restore sh e soprattutto dal file creato per ogni macchina che si chiama getto vcb restore underscore srv j ed ibs che andiamo subito a vedere andiamo subito a vedere nel 200 eccolo qua come abbiamo visto precedentemente non dobbiamo fare altro che creare questa stringa affinché in pratica definisca il definisca il pat il percorso all'interno del quale c'è la macchina da importare il percorso all'interno del quale importare la macchina il formato del disco e il nome che deve assumere la macchina dopo l'importazione quindi se andassimo nel 200 avremmo che in realtà tutte le macchine sono identiche le macchine importate sono identiche alle macchine delle 6XI sorgente con l'enderscore clone ragazzi è in produzione da un mese e mezzo è chiaro che ripeto non può essere paragonato a software più blasonati che dalla loro hanno un know-how molto molto più elevato del mio hanno anche un numero di consulenti pronti a risolvere tutti i vostri problemi però sta funzionando abbastanza bene e l'abbiamo anche abbiamo anche bloccato il server sorgente per dar vita al server di destinazione e ha funzionato senza alcun problema e considerate che ogni giorno abbiamo i log che vengono inviati attraverso l'uso del fantastico sendemail.exe e quindi funziona se volete anche voi provarlo sarei felice anche di darvi qualche dritta arrivederci al prossimo videotutorial grazie a Grazie a tutti